E' morto a Budapest Imre Kertes, lo scrittore ungherese aveva 86 anni ed era da tempo malato. Sopravvissuto all'Olocausto, Kertes aveva affidato al suo libro più famoso, Essere senza destino, le riflessioni sulla tremenda esperienza vissuta nei campi di sterminio nazisti quando era ancora giovanissimo. Nel 2002 aveva ricevuto il premio Nobel per la letteratura e in quell'occasione aveva dichiarato Sono uno scrittore controverso, mi hanno dato il Nobel, ma anche se il mio editore avesse rifiutato il libro lo avrei scritto lo stesso e nello stesso modo. Il romanzo, scritto in dieci anni e basato sull'esperienza diretta dell'autore, descrive la vita nei lager di un ragazzo ungherese di 15 anni. Nell'Ungheria comunista l'opera di Kertes era stata messa al bando e il suo valore venne riconosciuto solo dopo il crollo del muro di Berlino. Grazie